gentili telespettatori buona giornata forse probabilmente cambierà il sistema dei colori delle regioni quello che ci ha accompagnato ormai da quasi due anni ultimamente si erano erano aumentate i colori bianco giallo arancione rosso però visto che la mascherina è obbligatoria dappertutto la differenza tra la bianca la gialla la gialla l'arancione per chi è vaccinato ormai il 92 oltre il 92 per cento della popolazione italiana poi chi è vaccinato più chi è guarito si arriva a delle cifre altissime oltre il 95 per cento sommando le due cose per il 95 per cento della popolazione tra zona bianca gialla arancione non cambia assolutamente nulla niente di niente c'era una piccola differenza che era quella delle quattro persone massime al tavolo del ristorante l'hanno cancellata c'era la mala la mascherina anche all'aperto ma c'è già per tutti obbligatoria che cosa cambia solo nella zona arancione nella zona arancione per i non vaccinati c'è la regola che non possono uscire dal comune una sciocchezza perché immaginatevi che i comuni hanno poi sulle strade quei cartelli dove c'è il nome del comune sbarrato di rosso vuol dire che lì finisce l'area comunale ecco immaginatevi su quella strada di campagna con il cartello barrato di rosso non so mantova con la striscia rossa c'è un centimetro dopo quel cartello su questa strada che non c'è nessuno in mezzo alla campagna sono fuori dal comune no come cantava caparezza sono fuori dal tunnel l beh dice vado fuori di lì e così aumentano i contagi in italia il non vaccinato che esce dal perimetro del proprio comune aumenta i contagi nella regione capite che questa regola non ha nessun senso quella regola lì serviva per limitare gli spostamenti durante il lockdown non puoi uscire dalla tua città solo eventualmente se la posta al tuo paese è chiuso va in quello vicino naturalmente immaginatevi ad esempio un comune come roma gigantesco e un comune come dormelletto che sono 4 5 chilometri quadrati non lo so c'è una bella differenza tra una persona che non può uscire da un comune piccolo e la persona che non può uscire da un comune gigantesco che probabilmente già non esce mai di suo perché è talmente grande il comune ecco vogliono cancellare adesso stanno pensando di cancellare questi questi colori per lasciare solo la zona rossa eventualmente così domani alle 17 si riunisce il il tavolo tecnico con i dirigenti del ministero della salute i rappresentanti delle regioni i presidenti di regione per rimodulare le norme a partire dal pensionamento del sistema colori zone bianche zone gialle arancioni potrebbero diventare un ricordo anche perché chi ha il super green pass in questi casi non ha non cambia nulla quindi oggi lunedì 24 passano in zona gialla due regioni o mamma e quindi ah no niente solo è solo un titolo ma cosa cosa cambia niente e allora perché fanno cambiare niente e così mentre resterebbe solo la zona rossa che scatterebbe quando l'occupazione dei posti di terapia intensiva è sopra il 30 per cento in area medica al 40 scrive il messaggero che ricorda come la più severa delle misure in pratica un lockdown ora non interesserebbe nessuna delle regioni soprattutto con i casi in calo ma dobbiamo dire che realmente il lockdown c'è di fatto qualcuno lo ha lo ha menzionato lo ha detto solo che il governo ha fatto sempre finta di niente su questo caso c'è sempre girato intorno anche i giornali fiancheggiatori del governo che sono tanti milioni di milioni le stelle vuol dire qualità i giornali che sono fiancheggiatori del governo evitano accuratamente e anche quelli che sono non governativi lo dicono a volte a tratti che realmente c'è un lockdown di fatto per i non vaccinati i non vaccinati in realtà hanno lo stesso lockdown anzi un lockdown più duro di quello che c'era quando Giuseppe Conte ha messo ha messo il lockdown nel 2020 non possono fare niente se non andare al supermercato al mercato in farmacia farsi la passeggiata ma realmente non possono fare null'altro ecco quindi un lockdown c'è già indipendentemente che sia zona bianca gialla arancione rossa però vorrebbero adesso lasciare la zona rossa che scatterebbe quando l'occupazione dei posti di terapia intensiva è sopra il 30 per cento in area medica e al 40 per cento terapia intensiva sopra il 30 per cento in area medica sopra il 40 scrive il messaggero che ricorda come la più severa delle misure in pratica un lockdown ora non interesserebbe nessuna regione soprattutto con i casi in calo e qua vi faccio presente una cosa terapie intensive sopra il 30 per cento in area medica al 40 per cento questo per dirla a tutti quelli che dicono non è vero gli ospedali sono vuoti avete sentito i dati con il 30 per cento dell'occupazione dei posti letto in terapia intensiva l'ospedale è già in crisi 30 per cento se questo è 100 togliete il 30 vuol dire che il 70 per cento dei posti letto sono vuoti ma vengono lasciati per emergenza emergenza che può essere di qualsiasi tipo l'emergenza può essere di qualsiasi tipologia catastrofi guerre ecco pertanto quando qualcuno dice gli ospedali sono vuoti io li ho visti ha ragione nel senso che è vero che sono semi vuoti perché le terapie intensive con il 30 per cento diventerebbe la regione zona rossa e con il 40 per cento in area medica diventerebbe zona rossa la regione col 40 per cento in area medica vuol dire che ci sono occupati quattro posti letto su dieci immaginatevi che non esiste una stanza con dieci letto occupati quattro la regione in zona rossa se in terapia intensiva immaginatevi una stanza con dieci letti occupati tre sette vuoti la regione va in zona rossa ecco questo giusto per dirla a quelli che dicono io lo so grazie a tutti e arrivederci